buonasera gente questa sera mi sono venuti a trovare due bambini ok ok we are back allora maestro aspetta che vogliamo dire buonasera gente questa sera mi sono venuti a trovare due bambini ok ok we are back allora maestro aspetta che vogliamo dire buonasera gente questa sera mi sono venuti a trovare due bambini ok ok we are back allora maestro aspetta che così non ti vogliamo dire niente ciao salutiamo vogliamo dire che no non si molla niente ciao 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 ciao